amici bentornati a parlare di catone in questo video che è la prosecuzione del precedente che trovate linkato in descrizione come sempre e in cui vi ho raccontato la vita del censore e la famigerata morale catoniana un'etica austera intransigente tradizionalista ancorata al mosto majorum e soprattutto anti ellenica tutti i presupposti fondamentali per accostarci alle opere di catone di cui vi do subito un quadro generale lavagnetta nel corso della sua lunga esistenza 85 anni catone frequentò diversi generi letterari che vedete schematizzati nelle tre colonne si occupò di storia componendo le origines un'opera che narrava la storia di roma dalle origini fino al 151 fu anche un grande e prolifico oratore pare che i suoi discorsi ammontassero a oltre 200 e infine si occupò di precettistica di la scalica noi oggi diremmo trattati e manuali fra questi famosissimo il de agricultura trattato di agricoltura l'unica fra tutte le sue opere che ci è giunta per intero delle altre infatti possiamo leggere purtroppo soltanto frammenti in stato frammentario abbiamo anche i libri ad marcum filium un'opera che potremmo definire pedagogica contenente precetti e insegnamenti rivolti al figlio marco andiamo adesso ad analizzare le caratteristiche più importanti di questa produzione letteraria cominciando proprio dalla storiografia dunque origines presentiamo subito una scheda di quest'opera che catoni incominciò a comporre in età avanzata doveva avere circa 60 anni quindi più o meno nel 174 che egli divise in sette libri e di cui ci restano solo frammenti contenuto l'opera ve l'ho già accennato raccontava la storia di roma dalle origini dalla fondazione fino al 151 che è l'anno in cui egli tenne in senato la famosa orazione per caldeggiare la distruzione di cartagine delenda cartago egli morì due anni dopo nel 149 mentre cartagine fu in effetti distrutta nel 146 lingua latino voi direte ovvio e io invece vi rispondo assolutamente no andiamo subito ad approfondire questo punto quando leggete che le origines di catone sono la prima opera storiografica in latino dovete fare attenzione in latino ma non latina cioè romana già prima di catone infatti anche se non molto tempo prima verso la fine del terzo secolo quindi periodo della seconda guerra punica si era sviluppata una storiografia romana ma in greco autori ne erano stati quinto fabio pittore considerato appunto il primo storiografo romano e cincio alimento entrambi autori di annales cioè opere che raccontavano la storia di roma anno per anno ma in greco perché in greco primo perché la storiografia era un genere letterario importato dalla grecia come del resto tutti i generi letterari fino a questo momento a roma e quindi non c'era una tradizione latina a cui ispirarsi secondo perché questi storiografi che scrivevano in un periodo in cui roma si stava giusto espandendo nel mediterraneo e aprendosi la strada verso la grecia volevano che la loro opera fosse letta da un pubblico di lingua greca per far comprendere a tutti le ragioni dell'espansione di roma e insomma per far propaganda politica catone al contrario opta per il latino ed è per questo che è considerato il padre della storiografia in lingua latina perché questa scelta primo perché il greco gli stava molto indigesto anche se lo conosceva bene vi ho parlato a lungo dell'anti ellenismo di catone nel video precedente secondo perché quando catone scrive le origines roma è ormai già padrona del mediterraneo non c'erano più ragioni politiche per difendere e propagandare presso un pubblico di lingua greca l'espansione romana in oriente e questo per quanto riguarda la scelta del latino approfondiamo adesso un'altra caratteristica importante di quest'opera il rifiuto dell'impostazione analistica parlando di quinto fabio pittore e cincio alimento vi ho detto che erano stati autori di annales un genere letterario che si rifaceva appunto agli annales maximi dei pontefici cioè se vi ricordate quei documenti ufficiali redatti da tali sacerdoti in cui venivano annotati annatim cioè anno per anno tutti gli avvenimenti di rilievo catone però giudicò che questo schema fosse eccessivamente rigido inadeguato a un'opera storica che egli immaginava di ampio respiro e inoltre decisamente noioso sentite cosa scrive in questo frammento non mi interessa scrivere quante volte sono rincarati i viveri quante volte c'è stata la nebbia o quante volte il sole e la luna sono stati eclissati perché in effetti gli annales erano proprio così scelse dunque un'impostazione sì cronologica ma non rigidamente analistica un'impostazione che gli diede la possibilità di interrompere a un certo punto il racconto cronologico dei fatti di roma per allargare il suo sguardo all'italia e raccontare le origines di tutte le principali città italiche soggette a roma e questo è appunto il motivo per cui l'opera fu intitolata origines l'autore infatti dopo aver raccontato nel primo libro la storia dei sette re di roma si ferma per un po e inizia a parlare delle origines cioè della fondazione delle principali città italiche strano a dirsi proprio secondo un modello greco quello delle ctiseis che era un genere storiografico greco appunto in cui venivano raccontate le fondazioni di città e colonie e raccontando le origines catone ebbe anche modo di arricchire la narrazione con notizie geografiche etnografiche e curiosità insomma una lettura sicuramente più gustosa di quella che avrebbero potuto offrire degli annales dunque riassumendo le caratteristiche notevoli delle origines abbiamo detto scelta del latino rifiuto dell'impostazione analistica ampliamento dello sguardo della prospettiva storica alle origines delle principali città italiche ne manca una fondamentale il rifiuto dell'interpretazione individualistica della storia vediamo cosa vuol dire secondo una concezione proveniente dal pensiero greco la storia era fatta dai singoli esistevano individui dotati di virtù straordinarie e di talenti eccezionali ed erano coloro che facevano la storia questi individui erano quindi meritevoli di essere esaltati e giustamente ricordati da qui discendeva il culto della personalità prestigiosa e quella tipica tendenza della storiografia greca a dare rilievo riconoscimento a personaggi preminenti e che male c'è potremmo dire noi anzi onore al merito catone però la vedeva da un altro punto di vista quella del buon civis romanus di una volta secondo il quale la storia non era fatta dai singoli ma dalla collettività il protagonista della storia non è l'individuo preminente non è l'eroe ma è il popolo nella sua intierezza la storia è quindi un concetto corale e l'ascesa e l'espansione di roma sono frutto di un impegno corale della collettività e per questo i singoli personaggi dovevano passare in sordina e ciò spiega una curiosa caratteristica di quest'opera che avevano già notato gli antichi l'assenza di nomi propri di generali condottieri personaggi illustri tutti costoro benché dotati di virtù straordinarie erano solo per catone umili contadini nella vigna della res pubblica il senso di tutto questo catone temeva che il prevalere di singole personalità secondo la tipica mentalità individualistica greca avrebbe spezzato l'unità della res pubblica e rotto gli equilibri sociali e noi che sappiamo che fine avrebbe fatto la repubblica un po di tempo dopo proprio per la sete di potere e di predominio di singoli generali non possiamo dargli torto catone lo storico ma anche l'oratore da uomo politico e personaggio impegnato nella civitas scrisse un'ampia mole di orazioni pare che siano state almeno 200 di cui purtroppo possiamo leggere solo frammenti alcuni di questi però sono diventati famosissimi e sono significativi perché illustrano in maniera eloquente la famigerata morale catoniana voglio leggerne con voi qualcuno che a dire il vero potrebbe dare utili suggerimenti di vita anche a noi il primo che vi voglio presentare famosissimo la definizione catoniana di orator bir bonus dicendi peritus e attenzione parlando di orator almeno in questo periodo storico non ci riferiamo semplicemente all'oratore ma anche e soprattutto al politico la figura dell'oratore del politico coincidevano perché quest'ultimo doveva saper parlare bene doveva essere cioè dicendi peritus esperto nell'arte del parlare ma soprattutto doveva essere vir bonus cittadino onesto retto probo e con ciò catone esprime il nesso indissolubile tra etica e politica fra moralità della persona e capacità di esprimersi bene insomma sembra dirci catone inutile saper parlare se sei un disonesto altro frammento altra massima famosissima e qui non ho neanche bisogno della lavagnetta rem tene verba sequentur padroneggia il contenuto le parole verranno di conseguenza questa la dico sempre ai miei studenti quando faccio loro una domanda iniziano a balbettare poi si giustificano dicendo lo so ma non lo so spiegare se non lo sapete spiegare vuol dire che nemmeno lo sapete ancora un frammento che mi piace moltissimo nell'orazione in cui era contenuto catone stava tuonando contro uomini ambiziosi assetati di potere e di lusso e per contrasto predica la sua proverbiale abstinenzia cioè la moderazione la capacità di saper fare a meno di qualcosa e scrive si quid est quod utar utor si non est egeo se c'è qualcosa che posso usare la uso se non c'è ne faccio a meno e rimaniamo in tema di abstinenzia parlando del de agricultura il trattato sull'agricoltura di catone che è anche la prima opera latina in prosa che ci è giunta per intero ora perché un manuale proprio sulla coltivazione dei campi beh intanto perché catone era contadino e proprietario terriero egli stesso e insomma di agricoltura ne capiva ma c'è anche un motivo più profondo l'agricoltura era un'attività perfettamente coerente con il suo spirito severo e con la sua chiusura e diffidenza verso ogni forma di lusso e raffinatezza culturale l'agricoltura aveva insomma un valore morale essa tempra il fisico tempra il carattere toglie tutti i grigli per la testa ed è un'ottima palestra per il futuro soldato ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur il contadino soldato appunto il cincinnato del buon tempo antico insomma modello di quell'etica arcaica e campagnola che catone sosteneva a tutti i costi ma che ormai aveva ben pochi punti di contatto con la nuova realtà dell'umanità oltre a un valore morale l'agricoltura aveva però anche un valore economico la terra era un ottimo investimento anzi il migliore se si hanno soldi da investire scrive catone sempre nella prefazione meglio fare il contadino che il mercante o il commerciante mestiere calamitosum et periculosum oppure meglio ancora far fare il contadino a qualcun altro e tenere per sé la gestione e il guadagno e sì perché quando catone scrive il de agricoltura il cincinnato era ormai un modello retro non solo per motivi culturali ma anche economico sociali nel secondo secolo infatti dopo la seconda guerra punica al piccolo l'appezzamento di terra insomma al campicello coltivato direttamente dal suo cincinnato dal suo proprietario si stava sostituendo la media proprietà terriera nasceva l'azienda agricola posseduta da un proprietario assente che la faceva gestire da un vilicus cioè da un fattore e che veniva mandata avanti grazie allo sfruttamento dell'economia schiavista e questo è un altro dei motivi di interesse di quest'opera ci offre una testimonianza delle condizioni agricole dell'italia dopo la seconda guerra punta il contenuto del trattato un vero e proprio manuale tecnico scritto in uno stile scarno e dimesso fatta eccezione per la prefazione una magna farrago è stato definito dagli studiosi cioè possiamo dire un gran minestrone insomma c'è di tutto doveri del fattore doveri della moglie del fattore quando bisogna piantare che cosa quali attrezzi devono esserci in un frantoio riti di purificazione dei campi quante specie di cavolo ci sono come si fa a curare le piaghe con impacchi di cavolo riccio solo poche parole per concludere con i libri ad marcum filium un'opera anch'essa giunta in stato frammentario considerata la prima enciclopedia latina perché si trattava di un manuale pratico di tutte le arti agricoltura diritto medicina tattica militare di cui catone volle offrire al figlio una sintesi in vista della sua educazione applica cavolo battuto a tutte le ferite le guarirà senza dolore ma prima lava con molta acqua calda poi applica lo battuto due volte al giorno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti